Il WWF Abruzzo contesta il piano venatorio della Regione, avete fatto delle osservazioni, cosa non vi quadra in particolare? Il WWF ha presentato delle osservazioni alla proposta di calendario regionale pubblicato appunto sul sito della Regione. Molte sono le cose da contestare in quanto il calendario ci riporta indietro di diversi anni. Grazie ai ricorsi dell'associazione avevamo ottenuto un calendario venatorio meno impattante sulla fauna. Oggi ci troviamo a vedere l'apertura anticipata al 15 settembre addirittura per 23 specie, non succedeva da tantissimi anni. Vediamo allungata il periodo di caccia addirittura per alcune specie fino a febbraio. Non è un calendario venatorio, è di fatto una proposta provocatoria. Infatti anche l'ISPRA nel suo parere ha evidenziato molte criticità di questo calendario venatorio. Quindi chiediamo che ci sia un'apertura al primo ottobre per tutte le specie ornitiche e che vengano introdotte nel calendario venatorio delle misure che tutelino finalmente l'orso bruno marsicano. Quindi evitare la mini braccata, cioè l'intervento con tre cani all'interno delle aree che prevedono la presenza dell'orso bruno marsicano. Avete già approvato, cercato un'interlocuzione con la Regione e con l'assessore competente? No, speriamo che ci sia questa interlocuzione perché appunto quella in discussione è una proposta. Quindi ci aspettiamo che la Regione accolga le osservazioni del WWF e dell'ISPRA e che si eviti di andare, come ogni anno, ai ricorsi per via legale perché questo non fa altro che far perdere tempo alla Regione, ai cacciatori, agli ambientalisti ma soprattutto crea un conflitto sul territorio sicuramente non facile da gestire.